Una domanda ricorrente legata all'endheld come Steam Deck, Logitech G Cloud o quella che è, riguarda Game Pass. Ossia, si può giocare con Game Pass su queste piattaforme portatili? A quali giochi e come funziona? Ho pensato quindi di fare questo video per rispondere nel modo più semplice possibile, perché in effetti la cosa non è banale per chi si sta avvicinando a questo mondo per la prima volta e anche Game Pass in sé è un po' confuso. Quindi ce lo vediamo insieme in questo video, ci passiamo in rassegna a tutte le diverse tipologie di portatile e per ciascuna vediamo se potete accedere ai giochi di Game Pass come oppure no. Amiche, amici e belle persone in genere, bentornati sul mio canale, bentornati su Secondo Tava, io sono Stefano Sperandio, se preferite Tava e oggi bando alle ciance, andiamo subito a fare quello che dicevo nell'introduzione, ossia ci vediamo le diverse piattaforme endeld disponibili sul mercato e per ciascuna vediamo se e come è possibile accedere a Game Pass. Partiamo da Steam Deck. Allora Steam Deck funziona con SteamOS, che è un sistema basato su Linux. Questo significa che i giochi di Game Pass che su computer hanno bisogno di Windows non ci possono girare nativamente, cioè non ce li potete installare nativamente a meno di non metterci Windows. Però se avete un abbonamento a Game Pass Ultimate, che include anche il Cloud, allora potete seguire la procedura guidata che vi ho proposto qui nel canale, che poi è una procedura ufficiale, per accedere al Cloud tramite il browser internet. Questo vi permette di giocare a tutti i giochi che hanno il supporto per il Cloud, e di solito per questi ci sono anche i giochi prodotti da Microsoft, tipo il Blade, tipo un Halo, eccetera eccetera. I giochi degli Xbox Game Studios di solito sono compatibili dal day one con il Cloud. Però ricordatevi una cosa che se giocate in Cloud, le performance di gioco dipendono dalla vostra connessione e non dalla potenza di calcolo di Steam Deck. In Cloud, ad esempio, si può giocare il Blade 2 con un'ottima fluidità, però per farlo serve che la connessione abbia un ping basso e che abbiate una buona velocità, perché altrimenti si creano degli artefatti, oppure ci sono magari dei momenti di input lag dove voi date l'ordine, il gioco esegue in ritardo, diventa un'esperienza sgradevole. Quindi ci potete giocare, sì, tramite il Cloud, ma come ci giocate se la qualità è godibile dipende unicamente dalla vostra connessione internet. Per quanto riguarda piattaforme come Asus Rogalai, Lenovo Legion Go, Rogalai X, MSI Cloud, tutte quelle che hanno Windows, insomma, il discorso è diverso. Perché? Perché questi sono PC Windows con la forma di una console e quindi la cosa è autoesplicativa. In questo caso, infatti, voi potete giocare i giochi di Game Pass sia con un abbonamento PC Game Pass che con un abbonamento Ultimate. Il primo permette di accedere a una libreria di giochi per computer compresi quelli di Microsoft. Il secondo include il primo e aggiunge anche la possibilità di giocare in cloud e i giochi che lo supportano. Su quest'endeld, però, il cloud è solo un'opzione. Perché attraverso l'applicazione di Xbox che trovate preinstallata in Windows è che è terribile, perdonatemi se lo dico, apro e chiudo una parentesi, ma penso che farò un video per segnalare quanto sia terribile l'applicazione Xbox su Windows, perché praticamente rende i PC Game Pass, non lo so, gradevole come una colunoscopia in certe cose, perché ha veramente dei tempi e dei limiti, dei paletti che sono assurdi, quindi devono assolutamente migliorare l'applicazione di Xbox su Windows per rendere più godibile i PC Game Pass, ma magari ne parlo in un altro video. Nell'applicazione Xbox di Windows potete fare il login nel vostro account e tramite il vostro abbonamento scaricare tutti i giochi di Game Pass che sono inclusi in PC Game Pass. Quindi li installate, li scaricate e li installate. L'unico limite è che i giochi, in questo caso, devono rientrare nelle specifiche della vostra piattaforma. Esattamente come su PC voi, se volete giocare un gioco, dovete rispettare i requisiti hardware, almeno quelli minimi, meglio se sono quelli consigliati. Sinceramente, da quando sto giocando con l'endeld non mi è mai capitato di trovare un gioco che non girasse proprio per requisiti su Rogue Alley o Legion Go per motivi proprio tecnici. Cioè, è veramente difficile immaginare che non giri del tutto. Questo significa anche che su queste piattaforme potete giocare offline, perché il gioco viene scaricato da Game Pass e installato nell'SSD o nella microSD. Volendo, potete anche giocare in cloud, però in questo caso è un'opzione e non è un obbligo. Il contro in questo caso, visto che siete slegati dalla connessione, è che i giochi occupano spazio nell'archiviazione della console. Concertetemi il termine, chiamarle console. Il pro, come dicevo, è che ci giocate slegati da ogni condizione, proprio come fareste sulla vostra console Xbox. Piccola nota, come accennavo prima, io vi segnalo che lo store Xbox su Windows ha una lentezza esasperante. Cioè, se voi volete scaricare un gioco, vi faccio un esempio, nel mio caso, se Steam in quel momento mi va a scaricare anche a 100 MB, lo store Xbox mi arriva massimo a 15, ma proprio 15 quando è di buon rumore. Ad esempio, ieri dovevo scaricare un aggiornamento di Kunitsugami e stava andando a 2 MB, laddove Steam scaricava anche a 170. Io vorrei sapere perché ho provato a cambiare firewall, cose del genere, un sacco di sotterfugie per farlo migliorare. Ci sono palesemente delle limitazioni nello store di Xbox e questo rende sgradevole, come dicevo, scaricare i giochi da PC Game Pass. Funziona? Ci si può giocare? È un super pro, secondo me è il miglior modo di fruire dei giochi di Game Pass, scaricarli inattivamente su piattaforme Windows come Rogalai, Lenovo Legion Go, eccetera, però il collo di bottiglia è proprio l'app Xbox e io spero che venga migliorata in futuro perché è un peccato che tu hai un servizio interessante con tutti quei giochi che la gente ti paga e la limitazione sia in come funziona l'app che deve erogare quel servizio. È un non senso. Cioè immaginate quanto ci mette a scaricare uno Starfield, ecco. Al momento questo è l'unico grande limite che ho trovato a giocare Game Pass con piattaforme come questa. Il discorso è diverso per Logitech G Cloud. Questa è una console Android che è pensata specificamente per giocare a Game Pass ed è un tablet Android sotto mentite spoglie con la forma di una console e quindi essendo un tablet Android anche questa è pensata per giocare in cloud. Io ricordo che quando era stata annunciata Logitech G Cloud praticamente sembrava la console per il cloud di Xbox proprio perché lo sposa proprio non attivamente. Significa che per giocare su G Cloud vi serve un abbonamento a Game Pass Ultimate tra l'altro mi sa che c'era qualche mese incluso con l'acquisto e supporta anche il gioco remoto da Xbox che però è un'altra cosa e vi serve una console Xbox. Una volta fatto l'abbonamento e fatto il login voi avete l'applicazione preinstallata qui scegliete cosa giocare e via. È un approccio super intuitivo, super immediato, è molto facile da utilizzare però come sempre come dicevo anche prima per il cloud la godibilità dei giochi dipende dalla vostra connessione. Se non avete la fibra o magari una buona connessione in 5G io questo approccio ve lo sconsiglio perché può darvi dei grattacapi come dicevo si generano degli artefatti quando magari non carica bene oppure ci sono ritardi nella risposta dei comandi. Dipende molto anche dal tipo di gioco perché ad esempio io un Pentiment l'ho giocato tranquillamente anche se ogni tanto si creava qualche artefatto perché era un gioco molto statico se avete degli artefatti giocando un Hellblade è già un peccato però anche se è abbastanza compassato però se avete artefatti giocando un Halo o avete artefatti giocando un Forza lì inizia a diventare più complicato. Se invece avete una buona connessione lo schermo di G Cloud è super godibile secondo me è veramente eccellente rispetto alle dimensioni della console, la qualità dello schermo e anche una buona ergonomia. I controlli non sono impeccabili ve ne avevo parlato nella recensione però il lato positivo è che eseguendo tutto in Cloud la batteria le dura una vita e quindi come macchina da Game Pass se avete una buona connessione devo dire che questa è discretamente figa anche se ha un prezzo ancora oggi secondo me completamente fuori fuoco cioè questa dovrebbe costare massimo 199 esagerando secondo me 169-179 sarebbe il prezzo ideale lo so che Logite che quindi costa di più che di Marche eccetera che sto sparando molto basso però pagarla tipo 329-349-369 per me è una roba fuori di testa perché aggiungi poco di comprare una Steam Deck quindi il prezzo come dissi nella recensione è fuori fuoco messo da parte il prezzo pensate alle specifiche che ha se avete una buona connessione questa è una macchina da Game Pass abbastanza figa un'altra opzione che avete per giocare su Game Pass in handheld sono le retro console con Android o mini console o come volete questa è una dell'ambernic che vi ho recensito di recente perché quando sono sistemi Android vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per G-Cloud questo è un tablet, questo è un cellulare Android potete andare su Play Store, vi scaricate l'app Xbox, fate login con l'abbonamento Game Pass Ultimate e giocate tutti i giochi che volete in Cloud ovviamente anche qui ci sono dei contro il pro è che è super tascabile quindi se magari giocate giochi poco impegnativi che non vi richiedono di notare grossi dettagli ve la buttate in borsa manco ve ne accorgete vale la regola che dicevamo prima se la connessione fa schifo, fa schifo anche l'esperienza di gioco in linea di massima i controlli integrati vengono rilevati senza problemi da Game Pass, da quello che ho visto mentre può venire qualche grattacapo dallo schermo perché di solito le retro console sono pensate per i 4 terzi e quindi avendo questo rapporto magari tendono a lasciarvi delle bande nere rispetto a giochi in 16 noni o comunque spesso hanno dei polliciaggi molto bassi perché sono mini console per i retro giochi quindi magari i testi su alcuni giochi che scegliano piccoli Pentiment che citavo prima ma anche magari il Blade 2 diventano difficili se non proprio impossibili da leggere quindi dipende molto dal gioco che ci volete giocare a quel punto potete pensare anche di sfruttare l'opzione del vostro smartphone adesso non ho il mio qui però se avete lo smartphone vi collegate con un controller esterno tipo come quelli del backbone ma anche proprio il controller esterno della vostra console magari tramite bluetooth in questo caso potete sfruttare più o meno come fareste qua il contro se lo fate col vostro telefono è che il telefono magari lo usate anche per lavorare lo usate per fare le chiamate, lo usate per navigare sui social, lo usate per fare le foto se lo sfruttate per giocare in cloud quindi con la navigazione praticamente la connessione sempre attiva, lo scambio dati sempre attivo la batteria vi va giù abbastanza rapidamente quindi dovete stare attenti nella sua gestione anche nell'usurare la batteria nel lungo per questo io preferisco sempre una piattaforma specifica per giocare in cloud rispetto magari al cellulare che uso abitualmente per tutte le altre attività bene io direi che ho uno schieramento di console qui di pc in realtà assurdo direi che abbiamo visto tutte le opzioni da Steam Deck, Arroga Lai, Logitech G Cloud il nuovo Legion 1, MSI Claw, le console portatile, eventualmente il vostro smartphone fatemi sapere se avete ancora qualche dubbio vi ricordo che c'è la guida su come mettere il cloud di Game Pass su Steam Deck sul mio canale la trovate linkata qui sotto fatemi sapere come dicevo se avete ancora qualche dubbio intanto grazie per aver visto il video fino a qui io sono Stefania, se preferite Tava e ci vediamo presto su Secondo Tava Ciao! 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 Grazie a tutti.